Dele Dorroti, siamo venuti qui a vedere la manifestazione del campo progressista. Molte protesi, età media molto elevata, l'amico Bobo, il Duca, il vino fermante, il baronevola con la sua pipa, qui c'è un'infilata di vento piacevole, siamo interloputori, ma soprattutto ha visto molte protesi... Anche cosa, sta arrivando sudamericano? Ho visto molte protesi, molti... come si chiama quello lì che serve per camminare? No, si chiama... non camminatore, il deambulatore. Ho visto deambulatori. Questa non è una cosa che mi... Ma questa qua, quella la faccia è davanti qui. Questa qua, quella la faccia è davanti qui. i giovani, i giovani, i giovani, i giovani, quando vengono vengono quei bonghi, che suonano i bonghi, ma mi stai riprendendo quello qui? Io non vedo. Sì, è vero, è vero. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti 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 Grazie a tutti